Senta, insomma ci sono tanti temi sul tavolo del governo per quello che soprattutto le compete, i temi della famiglia, della scuola, insomma com'è questa ripartenza intanto sui banchi di scuola? Beh innanzitutto è una ripartenza in presenza, è stato ed è l'obiettivo di questo governo, la scelta è di mettere al centro l'impegno per l'educazione e per la scuola, lo abbiamo fatto con l'introduzione del Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi scolastici, tra i primi proprio per la tutela e il diritto all'educazione dei nostri figli. È un autunno di ripartenza, è un autunno in cui dobbiamo continuare con grande impegno sulla campagna vaccinale, a partire dai bambini più piccoli, da quelli di 12 anni, è un impegno nei confronti delle famiglie a cui arriva finalmente un assegno mensile per tutte le famiglie, anche quelle che non ricevevano nulla e che da gennaio diventerà strutturale assorbendo detrazioni fiscali, quindi da un lato certamente una prudenza ma dall'altro lato l'organizzazione perché questa ripartenza sia davvero solida e definitiva. Sarà complicato anche per le famiglie, babysitter, badanti, insomma, a cui dovranno per forza di cose chiedere il rispetto delle norme anti-covid, tra cui anche il Green Pass, lei lo ha detto poche ore fa, no? In realtà non sarà complicato, è proprio uno strumento di aiuto alle famiglie, chiedere il Green Pass per i collaboratori domestici, per le babysitter, è uno strumento che tutela la salute delle famiglie, la salute in particolare della popolazione più fragile, penso agli anziani, penso ai bambini, ai bambini piccoli, per le famiglie la verifica del Green Pass è un atto molto semplice, dall'altro lato le famiglie hanno anche uno strumento per eventualmente sospendere il collaboratore che si rifiutasse di avere il Green Pass. È davvero uno strumento di aiuto alla vita e alla tutela della salute delle nostre famiglie. Senta, sul vaccino per gli under 12 è ancora presto per capire che cosa accadrà? È ancora presto, noi come sempre ci affidiamo alla scienza e alla medicina, laddove si dovesse evidenziare che anche per una popolazione più giovane i vaccini risultano sicuri, credo sia importante procedere anche in questa direzione, ma questo non compete alla politica, questo compete alla medicina. Per quello che riguarda il sostegno alle famiglie, soprattutto in questo periodo anche post-pandemia, ci sono altre manovre all'orizzonte? Innanzitutto il Family Act, l'assegno unico e universale, stiamo parlando di un aumento significativo, 3 miliardi in 6 mesi, 6 miliardi a partire dal 2022 in più nelle casse, nelle finanze delle nostre famiglie, l'investimento in servizi educativi, penso al grande lavoro che stiamo facendo per aumentare il numero dei posti per gli asili nido, servizi che vanno nella direzione di un aumento del tempo pieno nelle scuole, investimento nel terzo settore, che è un soggetto importante anche nell'ambito dell'azione educativa, sport, musica, educazione non formale, reti di prossimità e territoriali, proprio per accompagnare anche questo processo. La violenza contro le donne è una piaga radicata nel nostro paese, troppo ancora presente, lo dimostrano i drammatici eventi di questi ultimi giorni, da un lato consolidamento della rete per i centri antiviolenza delle case rifugio, rendendo strutturali anche i finanziamenti e dall'altro lato un consolidamento anche di un'azione sistemica, preventiva e di protezione delle vittime attraverso il nuovo piano che stiamo varando.